Salve ragazzi e ben ritrovati con gli allenamenti Home Fitness. È arrivato il momento. Dobbiamo mettercela tutta per poter migliorare quello che è stato il primo allenamento proposto durante il nostro periodo di allenamento in casa. Con questo non vuol dire che concluderemo gli allenamenti e quindi non vi posterò più nulla, ma concluderemo diciamo una parentesi iniziale. Abbiamo tante altre cose da poter inserire e sicuramente riusciremo a fare anche delle cose ancora più divertenti, ma quello che è importante adesso è migliorare ciò che è stato fatto all'inizio. Quindi mi raccomando alta intensità, massima velocità sostenibile e mi raccomando scrivetemi e ditemi come è andata. Ed ecco qua che vi ripropongo l'allenamento della prima seduta. Ovviamente riscaldamento sempre, sempre, sempre adeguato. Inizieremo con un tabata plank, mi raccomando completo, 40 secondi di recupero. Successivamente un arm wrap da 15 minuti dove andremo ad eseguire 50 mountain, 10 piegamenti, 50 air squat o squat corpo libero, 10 barris. Seguiranno 40 secondi di recupero per concludere con un tabata che alternerà jumping jack a squat jump. Mi raccomando ragazzi, in bocca al lupo fatemi sapere. Mi raccomando, massima velocità sostenibile. Al prossimo video e in bocca al lupo, statemi in forma. Alla prossima!